se vuoi vedere come funzionè? se ne vanno misurate questi sono gli uccelli da smerdo eh? si stai diviso da smerdo guarda che vuole effettivamente ce l'ho ora sto mostrando un pugno nella testa se vuoi presentare cucciolino qui è un nemico è grande un po' un'arrabbiatino ero abbia incazzé un po' un cazzetto è un po' un cazzetto vieni incazzé un pettè incazzé un po' un cazzetto un po' un cazzetto qui al metro? si, io ho messo lì vediamo qui vai, l'è fettissimo no, no, no ma queste strade le fanno, ce l'hanno pure quando si viva, quando va bene presi? no, non voglio straccare per l'occhio, questo è un branco di spallare eh, ecco, ecco oh no ma se li posiamo no, mazza, quell'altro è più certissimo no, mazza, quell'esca che gli dai no, voglio straccare come capisci è vero però qui ci sono più però tutti sassi no, questo farà un metro no, fa due metri no, no fa due metri ti dobbiamo guarda slec, sicuro quella coda c'è un po' la segnata eh, quella fresca Questo è uguale a quelli nostri comunque. Sì. La l'ambrizzè. A cos'è. La l'ambrizzè è perfetto. Non ci arriva forse. 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90... Due metri. Due metri. Sì, comunque non ho speso dalla buona. Proprio c'è una formola più classica.